Musica 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 Ciao amici di Molise Web TV, oggi voglio parlarvi di una storia antica che ancora si ricorda a San Polo Matese, piccolo paese del Molise, piccolo ma al contempo grande, grande per i tesori che racchiude e che molti non conoscono. Per i veicoli, le stradine, le salite, rapide, curve, angoli al sole o ombra perenne, non ci sono più bambini che corrono o strillano, non ci sono più vecchiette in gruppo a raccontare magari vecchie storie. Vecchie storie come quella che si racconta ancora di tanto in tanto in merito ad un miracolo che qui è successo, il miracolo di Fonte Santa Maria di tanti e tanti anni fa. Storie dove con il tempo si mescolano realtà e credenze, dove i fatti realmente successi non sono di certo certificati, ma hanno lasciato un segno profondo, indelebile, in tutti i paesani. Si era nel mese di giugno 1935 ed un certo Vincenzo Santillo, che era vice segretario comunale, si ammalò gravemente e stette tutta una notte in fin di vita. Al suo capezzale c'erano tutti il dottore, amici, parenti, il parroco, che volle restare lì a vegliare per dare l'estremunzione all'ultimo respiro. Si racconta che Vincenzo stringeva forte forte un crocifisso con le mandi tanto forte da farsi male e mentre era in quello stato era al contempo sereno. E si racconta che in quello stato ebbe una visione, visione che la mattina fu lui stesso a raccontare, chiedendo l'acqua di Fonte Santa Maria, perché era quell'acqua che nella visione avuta dalla Madonna con San Giuseppe, San Michele e il Coro degli Angeli, la Madonna stessa aveva detto di bere per poter guarire del suo male. A quel tempo, per andare a Fonte Santa Maria non c'era la strada e dei giovani volenterosi impiegarono un po' per arrivare in montagna e una volta lì, con sommo stupore, trovarono il quadro della Madonna per terra e la nicchia, dove era posizionato il quadro, rotta, proprio come aveva detto la Madonna Vincenzo. Presero l'acqua e il quadro, riportandolo in paese e Vincenzo iniziò a bere dell'acqua, domandandone sempre di più, perché la Madonna gli aveva detto che quell'acqua era miracolosa e l'avrebbe guarito di certo. Vincenzo guarì e a settembre andò in pellegrinaggio a Pompei per adempiere al voto fatta la Madonna di fare questo pellegrinaggio e gli scrisse la sua storia a testimonianza della sua guarigione, lasciandolo al santuario come suo ex voto per grazia ricevuta. Vincenzo poi riferì che la Madonna gli avrebbe detto di far costruire lì a Fonte Santa Maria una cappella per pregare vicino a quella sorgente, sorgente da guscaturì a un'acqua che chi beveva guariva da ogni male. Vincenzo morì il 23 marzo 1939 e nonostante la neve e il vento che imperversavano in paese tutti volevano accompagnarlo nel suo ultimo viaggio al cimitero perché per loro Vincenzo era stato un miracolato. Verità o visioni dettate forse solo dalla voglia di credere possibile cose impossibili, fatto sta che ancora oggi ogni 5 agosto si porta in processione a Fonte Santa Maria l'Effigie della Madonna, il quadro che lì era caduto, fuoriuscendo dalla sua piccola nicchia. Verità o fantasia, fatto sta che qui a Fonte Santa Maria c'è qualcosa di indefinito, c'è una pace, un silenzio che ti prende, ti entra dentro e ti regala serenità. Venendo qui non puoi non sentire in te la voce silenziosa del bene, bene che ti prende sia tu credente o non. Fatto sta che qui a Fonte Santa Maria senti in te le forze del bene, senti in te una forza incredibile che ti dà pace e serenità. Vedi una natura che ti fa parte di sé, uno spettacolo di bellezze semplici e grandiose, bellezze che non riesci a toccare, non riesci a sentire, eppure ti circondano, ti elevano nello spirito e nel bene. Bene che germoglia in te, voglia di essere migliori, mille propositi di far del bene, la tua mente riesce a non pensare, a concepire il nulla, come antitesi al tutto che partutocchi qui, respirando, vivendo in quest'oasi. E il viaggiare delle nuvole ti avvolge e ti prende, consegnandoti uno spazio temporale di cui non sapevi neanche l'esistenza, ti senti leggero, amico di tutti, e l'amore che nasce in te, che è in te, ma resi spanda, fra faggi maestosi, pietre antiche, silenzi trovati, tra il germogliar di un'acqua fresca, impalpabile, leggera, chiara, chiara come i tuoi pensieri, che ora fai qui, a Fonte Santa Maria, nel comune di San Polo. Sperando allora di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro angelo.